La Banca Popolare di Bari ha comunicato alle associazioni dei consumatori pugliesi facenti parte del CNCU il rigetto del progetto di transazione proposto, limitandosi ad offrire una soluzione chiamata Tavolo di Solidarietà. La proposta della banca prevede un plafond di 4 milioni di euro solo per coloro che si trovino in gravi difficoltà e comunque solo nella misura massima del 25% di quanto investito. Allo stesso modo la banca ha rifiutato anche tutte le proposte economiche finalizzate al rilancio del credito e della liquidabilità dei titoli pure formulate dalle associazioni. Di fronte a una chiusura così totale e inattesa, le associazioni dei consumatori pugliesi con grande amarezza e delusione oltre ad aumentare di molto il carico giudiziario nei confronti della banca organizzeranno altre forme di protesta e di sensibilizzazione delle istituzioni. Saranno coinvolti azionisti e clienti della banca e utilizzate tutte le sedi territoriali e tutti i canali disponibili in questo periodo attraverso un lavoro capillare. Azioni che, fanno sapere le associazioni dei consumatori pugliesi, si svolgeranno per l'intero mese di giugno e si protarranno ad oltranza fino a quando la governance della banca non formulerà proposte serie e rispettose degli azionisti. Gli azionisti, secondo il parere unanime di Consob, Banca d'Italia e Procura Penale, sono stati vittime di condotte gravemente scorrette della Banca Popolare di Bari.